Oggi il campo è bello, ma come abbiamo fatto a trovarlo? Ma subito fai così, già parlando. Se faccio così si vede? Sì. Sì. 3, 2, 1. Oh, oggi il campo è bello. Misse, ma come abbiamo fatto a trovarlo? Un bel cross. Vai. Non puoi prendermi lì da sola? Sì. Vai. No, facciamo di testa. Faccio così che l'imbalzo. No, no, fai di testa. 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. C'è come faccio a prendere la palla di solo e tirare? Cresci. Uno subito. Mister, ma è meglio comprare un attaccante che un giardiniere. Siamo uguali. Infatti sei un gallo. Dove le hai lasciate tutte le galline? Una e l'altra e le altre? Le altre sono mescolate. Ah, mescolate. Come? Allora, ci siamo? Vai. Mister, mi sa che il problema sono io!